come fai ad essere lì in alto? come cazzo fai a beccarmi da lì? ma io sono troppo fotte fotte? no c'era un tipo che mi ha attrapato oh mio amico eccoci qui sulla the crafting dead cure the crafting dead cure no niente ho messo un qualcosa di speciale per loro dai derze che si fa oggi? che si fa oggi? oggi stiamo in mezzo al deserto direi di uscire subito oh raga no no ho buttato no sono abituata negli anger games dobbiamo recuperare dimmi uh bella ho trovato la soda da bere dobbiamo mi sbaglio mi va un po' a scatti ok no dobbiamo tipo cosa dobbiamo fare? bella ho ricaricato la g35 dobbiamo spostarci trovare altre cose altre armi no la g36 dobbiamo spostarci e andare a conquistare la foresta comunque c'è un tizio che ti sta tipo inseguendo in maniera molto cattiva ok bullizziamolo vai bulla 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 ah no 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 non bullare me che sto morendo guarda no derze c'è due cuori mi bulli tu però se mi bulli tu muoio se muoio mi sta bullando mi sta bullando ok andiamo 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 oh io non me l'adoro perché la mangio? toh no ma recupero la vita che cosa faiare? dai lo facciamo non corriamo non corriamo perché sennò gli zombie ci vengono addosso tipo questo qua che c'è dietro di te tipo questo qua che c'è davanti mi copri? mi copri? non mi puoi coprire vero? aspetta non c'ho la coperta no mi toglie troppo aspetta ok posto 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 magnifico 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 mangio un pochettino di che roba marcia che poi la carne marcia è utile visto che non dovremmo correre perché se corriamo ci facciamo sgamare aspetta io vado piano piano e l'uccido aspetta perché questo c'è una testa di melone la testa di melone no ok e andiamo andiamo sali su sali su a trovare un po' di roba io vado un po' più avanti uh caccolina bianca la caccolina degli uccelli ho trovato si bella ha trovato un po' di roba sai quella degli uccelli quando fanno la cacca bianca? cosa serve il suppresso? ragazzi ma perché gli uccelli fanno la cacca bianca? cioè voi lo sapete infatti perché noi dobbiamo fare le cacchette scure e loro la devono fare bianca? perché? non è giusto anche io voglio fare la cacca pura poi la cacca degli uccelli non dovrebbe puzzare puzza la cacca degli uccelli allora se siamo tipo in pericolo e vogliamo attirare gli zombie ho le granate del suono che tu le lanci e attirano tutti gli zombie se vuoi te ne do una vedi com'è almeno così lo mestriamo in video com'è? sembra tipo una scimice ma cos'è? si è una granata del suono e come si lancia? con il destro? credo con il destro vabbè lo proveremo in caso di pericolo si si ma non ci stanno più ah c'è un altro cosino qui un altro come si chiama? un altro che cosa? la mini fortezza aspetta che ci sono entrate attenta che c'hanno zombie dietro ah adesso gli faccio la 4 ok non gli posso fare no gli zombie sono più lenti tipo di giorno ok ah comunque se voi anche voi state giocando questo pacchetto state attenti a non buttarvi da alture perchè vi spezzate le gambe Ders ha provato questa sensazione si 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 ah ah prendiamo un po' di legna ma dove sei andato io ti ho perso sono qua sopra uuu c'è una casa nera Ders io ci vado dove la vedi? avanti è nera non ti vedo eh non mi vedi forse perchè mi sono allontanata troppo comunque uuu le case nere ci stanno che ci sono nelle che c'è nelle case nere? ma non sono bag di luce no non lo so non so sembra ossidiano andiamo se non so case nere mi metto a piangere uuu ho trovato una casa tipo grande come quella in cui eravamo prima no non sono case nere era bag di luce dai mi ho entrollata comunque ho trovato un medikit ah ho visto forse dove la case nere dove eh dove c'è il deserto si si case nere dove sei si bravo allora forse ho capito dove sei aspetta che cos'è sta roba? ho preso ah la morfina ok la morfina morfina è utile certo ma qui sotto che c'è qui sotto? eh non ti trovo eh vabbè adesso mi torno sono andata un po' più avanti sono nel deserto ecco eh arrivo allora poso un po' di roba eh acqua come si fa a prendere la scoperta poi? perché nei commenti mi hanno detto che sono morta tipo disidratata disidratata sì ce l'avete detto forse in 30.000 cioè sono i commenti erano quelle ma ero morta perché sei disidratata non sai leggere l'inglese non mi hai scritto cazzo sto perdendo non è che non so leggere l'inglese perché sono tipo in panico ma guarda che difficile sta modalità sì 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 poi con tutti i che ti vedono addosso guarda che se non siete un minimo brevi in minecraft richiappate le mazzate eh sono ancora nel deserto mi sto a fare le case no vabbè allora mi ne faccio ok mica è lagata ho detto ma mi hai crashato a minecraft no non è vero non hai crashato ok dai oddio un albero uh altre caccole oddio un albero cosa ho trovato? comunque so fa tipo le munizioni ho trovato pure le munizioni per un altro fucile che quale? da cecchino quello senza mirino mi uh una casa fatta di carbone dopo lo prendiamo uh una s50 surprise no surprise cioè col silenziatore no adesso adesso io mi surprise cosa vuol dire? col silenziatore col silenziatore sì e poi sarei quella sarei io quella che non sa l'inglese vabbè tralasciando il fatto che lol un minimo lo sapevo l'inglese prima lo sapevo sì ma l'inglese noi siamo international uh uh caccole verde caccole verde ok cosa ho trovato? un'altra mazza no adesso si trova le big co però dove le mettiamo queste cose una volta che le abbiamo preso tutte? cazzo aiuto 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 sei morendo? mi devo tippare? no no tippati se vuoi dopo da me sì sì adesso continuo il giro delle case del deserto me ne giro tutte comunque mi hanno detto alcuni che hanno cercato di scaricarsi il pacchetto e non gli da problemi ma dovete essere premium eh no gli da problemi proprio il single player se non giocano in un server devono essere premium per comunque avere il pacchetto il launcher ufficiale ma vai a colpirmi da qui che sono a mille mille blocchi distante ma che cacchio sta arrivando la notte ah ok e quindi? io voglio sapere no ho trovato pure un fucile a pompa come faccio a chiudere qui? aiuto? no non morire adesso adesso no no non muoro adesso io mi faccio un attimino in giro di questo piccolo edificetto qui oh forse ho trovato dell'acqua no non era dell'acqua cos'è questa? mamma mia quanta roba water content che cacchio è? dopo vieni qua e guardiamo tutto no adesso arrivo aspetta vediamo se ce ne sono altre una me la doro vabbè io ho finito il mio giro oddio ho trovato una katana la voglio io la katana è mia facciamo a cambio no non morire tippi ho la katana ho la katana ho due cuori però ti vengono ad aiutare tippati 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 eccomi chi è? chi è stato? ah non c'è nessuno ma dai guarda la katana come vedete? ma sicuro che è una katana? non è una katana ma che cacca ma dai ma è un tipo il bastone dei vecchi peloso cosa stai dicendo? tamurai sword ah tu ce l'hai in mano no perché io ce l'ho mi hai dato quest'altro cosa mi hai dato il bastone del vecchio è il pene di porco è il pene di porco è il piede di porco dai 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 che facciamo che facciamo adesso che facciamo dobbiamo aspettare che passi la notte ah dovrei mettere il coso della luce perché mi hanno detto nei commenti che non si vede nulla nella cacchia ah aumentare aumentare la luce si non si vede nulla nel video magnifico ok guarda che bel balconcino io qua resto qui guardo gli zom guarda quello quanto cacchio corre aspettiamo che passi la notte? eh dimmi tu io andrei pure all'attacco così però cibo non abbiamo cibo eh infatti dovremmo fare una cesta la cosa che è brutta è che gli oggetti non sono commutabili come si dice non sono unibili non si uniscono cioè gli oggetti doppi cioè ti porti appresso si 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 è vero troppe cose aspetta allora facciamo una cesta e di qua vieni qua si può fare? si una cesta si può fare eh ma poi la roba la lasciamo qui come facciamo? eh tanto vabbè per ora la lasciamo qua ma ci sono i waypoint? cioè se io tipo faccio S che vado su i waypoint non esistono no non credo che ci siano i waypoint no qui faccio scendere senza prendere danno ah ah una cosa ma se io ti do della roba che ho doppia e tu mi dai della roba che hai doppia tu e ci teniamo roba diverse e io c'ho l'odbang empi ah sai che ho letto nei commenti che ti posso che ci possiamo fregare il nostro sangue per curarci ma come facciamo? aspetta fa provare vieni qua aspetta non mi prosciugare perché sto quasi morendo dammi nel cibo se ne hai in più aspetta mi butto sulla cesta senza morire ok no 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 non ho preso il sangue no dammi il tuo sangue aspetta provo io vieni qua no mi fa male ho già capito you just lost blood oddio ti sto fregando il sangue vieni qua vieni qua dammi il sangue sto male dammi il sangue stai zitto sto male zitto oh ho la nausea ok me l'ho fregato questo è il tuo sangue come hai fatto a rubarmelo? non lo so mi sono venuta tipo vicino a te ah l'ho rubato anch'io no 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 vediamoci il sangue aspetta come si beve? un altro come si beve? no basta che mi che poi mi sono che mi calla il ferro non ti serve adesso il sangue oddio la testa ok passato passato tira la testa o facciamo una cosa io ti do le cose che ho doppie questa ce l'ho doppia perché tipo questa ce l'ho doppia prendi queste cose che ho doppia questa ce l'ho no no questo non sono è lo scar si oddio è tipo tre io ho le munizioni dello scar ok poi c'ho il ragminton vabbè questi no oddio il mirino no no non mi spiega non ne consuma adesso a me non so che ti piacerebbe spararmi però non lo vale la soda che fa la soda? ma come stai recuperando l'acqua? lo sai? bevendo tipo la soda così ma come recuperiamo l'acqua senza morire? eh non lo credo che dobbiamo andare al ad una fonte di acqua e dove la prendiamo la fonte di acqua? adesso vi provo a lanciare una granata no 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 così attiriamo gli zombie tutti da una parte e quindi? non è successo niente non l'hanno visti io mangio una mela d'oro aspetto ok che almeno recupero la vita ma io dovrei ammazza un po' di zombie per o darcela tutti dietro io ne ammazzo un po' così mi faccio acqua dobbiamo ammazzare anche gli zombie per recuperare l'acqua forse No, merda, merda, ci abbiamo tirati tutti Li hai attirati tutti Io li sto picchiando e non sono accorgo Adesso muorono Questo è quello più cattivo e veloce? Oddio, lo spinto su di te Ma va Ma cosa vuoi fare? No, mi è presa Ok, mi è ripresa No, 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 non posso fare le cose Dobbiamo essere più No, sto morendo, devo bere il sangue di Ders Come faccio a berlo? Se perdi il sangue hai bisogno di una bandana Ce l'hai la bandana? No, ho preso il tuo sangue Di qua, dammi l'altro po' Non mi continui a perderlo Grazie Dai, basta Ok, basta Io l'ho recuperato, ma te lo rubo io Comunque in questo episodio abbiamo scoperto tante cose Che c'è lì avanti? No, no, niente Dersi, Dersi, senti una cosa Ma se tipo Facessimo Io sto ancora perdendo sangue Ma vaffanculo E Come faccio a mettermela la benda? Io devo riprendere Ah, donna Ah, me la so messo, ok Minchia, sto per perdere Minchia, se muori disidratato muori subito Un attimo Basta rubare il sangue Ti sparo, eh Va bene, non fa niente Oh, che si fa? Che si fa? Ci muoviamo? Voglio usare la katana Voglio usare la katana E provala la katana Poi la fai provare anche a me Sì, aspetta Sento quello di scingere Sennò continuo a prenderti sangue Sì, ecco Basta sangue Provala Ti ho lasciato la katana, aiuto Adesso il mio disarmato Ti proteggo io Ma sono anche nauseato, cazzo In un momento neva Minchia, è strafiga comunque Minchia, se ne trovi un'altra la voglio pure io Ti lancio le lattine È strafiga No Dobbiamo trovare qualche costruzione figa Qualche costruzione che non abbiamo ancora visto Andiamo un po' in giro Qua sotto che c'è? Eh, c'è tipo una cava Vogliamo esplorarla? Sì, andiamo, andiamo Andiamo a trovare Esploriamo la cava Oh, mi metti la luce Oh, ma vicino si accende la luce Oh, no Ok Sarebbe stato troppo bello No, ma non credo che troviamo il zoom qua Non c'è niente Ci hanno trollato, no? No I struzzi No, cattivo Adesso ci hanno tirato una imboscata E adesso ci vengono a uccidere tutti No, non sono tanto intelligente Sono troppo stupidi Eh, sì Aspetta Vale, ferma, ferma, ferma Vuoi vedere No Oh Beccala Mo mi viene invalutato Mo ti vomito in testa Vieni qua Oddio Oddio Ma ti prende davvero Tipo il gira testa Sì, sì, ti gira veramente la testa Sì, c'è un'altra casina Andiamo Va bene, va bene Vai piano, cammina piano Ecco Guarda lui dove va In mezzo agli zombie A camminare Cioè, ma si può Perché io sono il Gesù Eh, tu sei Gesù Cammini in mezzo agli zombie Ciao Io faccio il buttafuori Cioè, c'è il GPS che non lo sto usando Com'è che faccio a mirare con lo scar? Eh, non credo si possa Si può mirare Sì, no, l'ho fatto prima Con E? No Con D? Non lo so Con R Ah, con R miro Con R Con R si ricarica? Veramente? No, con F si ricarica Ah, io sono abituato Tipo agli GPS veri Oddio Mega laggata Mega laggata Mega laggata Mega laggata Ok, smesso No, Terz Mentina cosa Ma c'è un'altra casa Ma le case adesso sono vuote Non è che ci siamo già stati qui No Che ci fa quello lì? Sull'albero Guardalo Sta giocando a nascondino Ah, appena ci ha visto Minchia, c'era una visuale allucinante Sì, sì, no Ci vedo da lontano Seguiamo la strada Aspetta Io forse sto morendo di sete Aspetta Fammi vedere Anche io cazzo, è vero No, non si deve morire stavolta Come faccio a berla? Come cazzo faccio a ricaricare? Ma perché non me la dà bevuta? Vabbè, mi bevo le sode No Perché è vuota la bottiglia E come la dobbiamo riempire? Aspetta, io non lo so No, regà, veramente ce la dovete dire nei commenti Se voi avete giocato Ditecela nei commenti, please Prego Cioè io voglio vivere Perché se no vado avanti con la soda Però la soda fa male Mi fa ingrassare Eh, non è buona come è, infatti E se mi bevo il sangue? Quello diventi un vampiro Eh, vabbè, ma... Ma qua ci siamo già stati, forse Non lo so Come si recuperano le bottiglie Aiuto Oh, io provo ad ammazzare gli zombie Io ci provo Eh, ma se ammazzare gli zombie non ti si recuperano le bottiglie Eh no, togliti No, nel senso che ti droppano sempre qualcosa gli zombie A volte Ma perché la soda non ti dà l'acqua, eh? Questo è vuoto Questo mi picchia Ah sì, guarda No, ma non capisco perché Proviamoci Aiuto Ok, non mi danno nulla, si zombie Io voglio la mia... Di solito sto perdendo la vita Noi macinatemi sulla torre, va Vieni a fare la riunione Aspetta, io entro in questa casa un attimo Facciamo sì Ti vedo, ti vedo Entro in questa casa Vedo se c'è qualcosa Tipo vuoto Ci siamo già stati qui, sono sicuro Eh, sì Dovremmo mettere un segno del passaggio Quando siamo già stati Eh, è vero, è vero Abbiamo fatto una croce Sì, oppure tipo Eh, spacchiamo qualcosa Una V Perché una V? Eh, perché è dispuntato Vieni qua dentro, vieni qua dentro Non lo so Volevo mangiare Volevo, non so cosa ho buttato Io ho sentito degli spari Te l'ho ucciso, te l'ho ucciso No, ho buttato le granate Non ci credo Ah no, ho spiegato la granata No, senza peli sulla lingua No, ci credo Stiamo registrando Oh, vale, pure voi Pure voi state registrando È convocazione di condominio Che è che urla qui in questo Il video è finito, ciao No, vai tra Aspetta No, no, no Qua, riunione di condominio No, no, no Che è sta situazione, eh Ma stiamo tutti registrando No, no, tutti con le gambe aperte Con il rec aperto, tutti No, 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 no